Allora, come abbiamo detto in apertura, oggi è la giornata internazionale della danza, una festa in onore proprio del grande coreografo Georges Nover, nato il 29 aprile del 1727. È considerato un creatore proprio del balletto moderno e noi quest'oggi abbiamo un ospite veramente d'eccezione. Ma prima guardiamo insieme queste immagini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La fama di fama internazionale, Etual della Scala di Milano. Etual sono stata ora non più. Vabbè, però è come se lo fossi sempre. Etual qualche volta si nasce, qualche volta si rimane etual sino alla morte. Non lo so. Esatto, allora, innanzitutto grazie per essere qui, per aver accettato il nostro invito in questa giornata molto importante proprio per la danza. Però dobbiamo dire anche questo, che tu oltre ad essere un fiore all'occhiello proprio per la danza italiana, eccetera, hai un altro merito ancora, cioè quello di aver portato la danza al grande schermo e quindi in televisione, è vero? Questa è stata una cosa un po' casuale perché è nata da un'idea di Vittorio Ottolenghi che mi presentò a Gianni Boccompagni per fare quel famoso dream con Enzo Paolo Turchi, ballerino e coreano. Che adesso vediamo, adesso lo vediamo tra pochissimo. Che è stata la partenza, un po' casuale, però ho capito che la danza poteva anche un po' uscire da questa gabbia dorata che aveva il grande teatro, la grande coreografia, il balletto romantico. La danza aveva bisogno di più aria, più spazio. E ha funzionato proprio bene. Ha funzionato molto bene perché abbiamo capito che al pubblico la danza piaceva pur non essendo un grande conoscitore e poi perché mi ha fatto tante cose, spettacoli in piazza, tournée, festival bar, passaggi televisivi. Io dove c'era da ballare andavo. Eh beh, certo, ha fatto bene. La piazza è diventata una grande conoscitrice della danza. Ecco, ma vogliamo vedere insieme questo filmato? Vediamolo e poi lo commentiamo. E qui l'abbiamo vista con Enzo Paolo Turchi, no? Questa è la prima puntata di Dream, regia di Gianni Boncompagni. Come andò? Un caso. Io una sera venivo da una prova di Giulietta Romeo, tra l'altro con la coreografia di Nureyev, e mi telefonò Vittorio Tolenghi, esplicita come sempre, mi disse O prenderò o lasciare? Ah sì, su due piedi. C'è un'occasione fantastica per te. Domani mattina alle otto a Roma. Ho detto, ma io non posso, ho la prova. Dovevamo andare a New York, non si poteva. E mi ha detto, tu prendi l'aero, ci penso io. E sono arrivata da buon compagni, un po' pallida, un po' stanca, con un cappottino che amavo tanto, color panna. Lei mi ha guardato, nove e mezzo del mattino, ero partita da casa alle sei e mezza, ha guardato Vittorio Tolenghi e ha detto, a Vittorio, che mi hai portato? Una morta. Addirittura, vabbè. Io la trovo stupenda. Vabbè, meno male, poteva essere anche offensiva. No, 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 Gianni Boccompagni era così, perché mi ha visto così pallida, così stanca, così, ha detto, ma questa come faccio a metterla davanti a una telecamera? Certo. E invece poi è stata, a parte un'esperienza meravigliosa, e poi una partenza fatta bene dove la danza era valorizzata, pur essendo il primo grande passaggio, perché anche Fracci ballò per la televisione, ma il mio è stato proprio un passaggio importante. Importante. E vediamo un altro filmato, era il 1981, la prima puntata di Fantastico 2. Vediamo. E vediamo. E qui era insieme al grande Raffaele Paganini. Lei ha ballato veramente con tantissimi grandi ballerini, ma qual è che ricorda, c'è qualcuno che ricorda con più affetto particolare? Ma, diciamo, con simpatia, affetto, direi quasi tutti. Ho avuto sempre dei partner molto carini, molto disponibili, forse perché io ero un po' dura, per cui loro mi sembravano tutti dolcissimi. Deve essere questa la cosa. E ne ricordo alcuni, ma perché magari ho lavorato con loro di più, diciamo, Giorgio Iancu, Raffaele Paganini per anni, tanti, tanti altri. Devo dire che però la genialità della danza, dell'affrontare la danza, di coreografare, di mettere in musica di Rudolf Nureyev è stata straordinaria. Ecco, a proposito di lui, il grande Rudolf Nureyev, com'è stato l'incontro? Se lo ricorda? Beh, Nureyev io già lo vedevo che ero bambina, perché quando sono andata alla scuola della Scala, Nureyev aveva già Nureyev. E poi sono entrata, finita la scuola, sono entrata subito nel corpo di ballo col concorso nazionale e eravamo lì, si faceva il corpo di ballo, poi ho fatto subito in bella addormentata la gatta bianca, sempre coreografia di Nureyev, poi c'è stato lo schiaccianoci corpo di ballo, poi le soliste, sino che poi un bel giorno sono arrivata a fare lo schiaccianoci come interprete principale, coreografia di Nureyev. che credo che sia uno dei balletti più belli che siano stati fatti. Siete, invece entrando un po' più sul personale, lei ha due figli, no? Adottivi, che dovremmo vedere tra l'altro in foto. Sì, ho due figli. Eccoli qua. Marcos, Moises e la piccola Moussa. Adesso sono uomini però, sono uomini e mi sembra piaciuto che potessero fare un po' di danza, specialmente il grande. E invece no? No, no, mi ha detto io preferisco la capoera. E vabbè, ognuno ha i suoi gusti, insomma. No, poi li ho portati a teatro, a vedere tanti spettacoli. Certo. Poi a un certo momento ho detto, ma perché non venite più a vedere la mamma? Mi ha detto, ma mamma, tanto tu alla fine muori sempre lì. Perché in effetti in tutti i balletti classici... E' vero, sono un po' drammatici. Sono un po' drammatici. Per fortuna è teatro, insomma, è solo finzione, no? Sì, sì, sì. Bene, allora grazie, grazie di essere stata qui con noi. È stato veramente un piacere celebrare questa giornata importante della danza. Io vi ringrazio, ringrazio veramente a nome della danza che ha davanti un futuro straordinario. Innanzitutto perché è un linguaggio unico, quindi se io vado a Hong Kong le pirouette si chiamano pirouette. Certo. Quindi è anche facile comunicare. Comunicare, si può comunicare attraverso la danza meglio. E poi naturalmente c'è una grande apertura perché ormai si viaggia in tutto il mondo, ci si conosce praticamente tutti. Quindi la danza avrà ancora un futuro meraviglioso. Grazie. E noi saremo qui a parlarne. Grazie Auriella Dorella. Grazie.